C'è, la gente... Non ha niente da fare tutto il giorno! Ma che ti fa? Ma che ti fa? Scrivono le cagare a modo suo, a modo suo. Hanno imparato. Adesso vogliamo presentare... Tu, sai cosa... Ma basta! E cartoni animati, e giapponesi, e... Heidi, ti sorridono i monti, le caprette ti fanno ciao! Le so tutte! Ma andiamo, e andiamo! Ma andiamo su, andiamo! Ma andiamo! Ma sì! Andiamo, ma sì! Basta! Andiamo, ma andiamo! Ma è facile sapere le risposte. Vediamo come si accava con le domande. Le domande? Il momento è drammatico, vedo. Attenzione, favole da 670.000 euro. E' un'esercito. In quale situazione Capitano Uncino è comodo? Il tempo scorre. Dunque... Sì, mi pare di ricordare. In quale situazione? Capitano Uncino è comodo. In una situazione sola. E... In tram! Ma andiamo! Ma andiamo! Andiamo! Insieme! Le so! E andiamo! E andiamo così! Ma così mi voglio!